Sono Andrea Bernardi, ho l'ufficio a Piavena Rocchette dove sono titolare, nel mio ufficio lavorano altre tre persone, più abbiamo uno studio collegato a Carrè, quindi siamo un gruppo di sette persone che lavorano in sincronia. Facciamo parecchi edifici in legno proprio perché già nel 2003 ho cominciato a realizzare i primi fabbricati in legno, il primo è qua poco distante, fatto con la Rason e da allora ho fatto un'evoluzione sia dal punto di vista di studio sia dal punto di vista di approcettazione delle case in legno. Infatti un anno e mezzo fa mi sono laureato in ingegneria civile con la tesi sul comportamento delle case in legno nei primi caldi e ho visto anche dei riscontri ottimi dal punto di vista della clientela che mi chiedono informazioni e riesco a soddisfarle abbastanza, sono al primo momento.